benvenuti benvenuti cari amici siamo vedi questo nuovo video naturalmente come sempre ricordo di distruggi il bottone like, iscriviti al canale, iscriviti anche nell'idegram oggi vogliamo parlare di shiba inu capitalizzazione in mercato in questo momento di 18.5 miliardi vediamo che oggi in generale le alz ok troviamo tutto verde e quindi quello che mi stavo chiedendo shiba inu ripartirà o no? innanzitutto andiamo a vedere questa notizia perché shiba è stato listato sul più importante exchange spagnolo bichumi ok quindi shiba arriva anche in spagna come vediamo anche qua confermato da milkshake e sostanzialmente dopo bitstamp dopo bichumi che cosa mi aspetto? mi aspetto anche che arriveremo ok su robin hood è necessario che arriviamo su robin hood perché non tanto per il prezzo perché non penso che causerà diciamo un grosso aumento del prezzo però su p exchange siamo più facciamo conoscere lo shibismo in tutto il mondo per cui abbiamo conquistato sostanzialmente anche la spagna ora per listing su robin hood ci servono un milione di firme ne abbiamo raccolte 551 mila non è l'importanza non è tanto quante firme raccogliamo ok perché alla fine l'exchange se vogliono listare una coin ok la listano però comunque contribuire se potete comunque firmare questa petizione ok andiamo alimentare sicuramente più in fretta ok quello che sarà il meccanismo di listaggio ok di shiba su robin hood che secondo me arriverà ora su shiba inu c'è un po' di amore e odio che vedo da parte di chi ha investito in shiba perché molti hanno gridato al fatto che gli scam appunto gli squid game hanno acquistato pensate 125 milioni di dollari in shiba inu diciamo molti sono insospettati e hanno deciso di vendere però dal mio punto di vista queste sono tecniche per buttare fuori le persone quindi vi dicono attenzione gli scam sono arrivati allora andate in panico e vendete in più vedete anche che il prezzo cale ha andate a vendere ora dal mio punto di vista non c'è alcuna cosa a preoccuparsi sappiamo come che il prezzo alla ricchezza o che la volatilità soprattutto su queste meme coin ok che potenzialmente secondo me potrebbero dare negli anni rendimenti davvero pazzeschi quindi dal mio punto di vista un giorno shiba inu potrebbe anche raggiungere un centesimo parlo da qui a 10 anni ok quindi veramente tra tantissimo tempo il che implicherebbe comunque una capitalizzazione in 4 trilioni quindi circa 4 volte quella che è bitcoin secondo me se bitcoin un giorno arriverà a 100 trilioni non è possibile che shiba ok possa arrivare a 4 naturalmente non sono nei consigli finanziari nei consigli trading ma io vi dico quella che è la mia idea è per questo che ho anche un fondo a lungo termine su shiba però se andiamo a vedere finora quanti shiba sono stati bruciati circa il 41% naturalmente questo lo potete anche andare a vedere su etherscan e questi sono i shiba finora bruciati che erano stati bruciati da parte di vitalik buterin ora andiamo a vedere quella collection di shiba inu al momento che è di 3.373 quindi che cosa vediamo? vediamo che shiba da un punto di vista andrà a bondeggiare tra i 3.000 e i 3.500 se effettivamente vedrò questa action ok quindi di accumulo secondo me potrebbe riprodurre nuovamente ok il stesso movimento che andò a fare questa estate quindi attenzione su shiba inu ci presi già in passato vedremo se effettivamente risuccederà naturalmente abbiamo bisogno di un'area d'accumulo che duri o che è un po' di tempo quindi secondo me almeno un mese questo è l'intervallo temporale di cui abbiamo bisogno se dovessimo ok riprodurre questi movimenti attenzione sostanzialmente a shiba inu ora per chi crede sostanzialmente in shiba inu mi viene da ridere in questo senso in tanti di voi compravamo un shiba inu quando il motore di ricerca google era saturo ok quindi se ci credevate allora e ma lì vi siete presi un dump perché non crederci ora? che cosa osserviamo? osserviamo che su tutte le coin funziona così quando nei motori di ricerca quella coin ok sostanzialmente non è ricercata poi tende a salire quindi bisogna anticipare il trend so che non è facile però secondo me su una coin come shiba inu ok potrebbe riprodursi nuovamente un valore di 100 e allo stesso modo secondo me succederà lo stesso su doge e potrebbe innescarsi diciamo una guerra positiva tra shiba inu e doge coin per cui andremo a vederlo già che sono qui con voi anche vado a vedere il prezzo di doge coin in questo momento siamo a 0,178 avevamo visto sostanzialmente come giornata di ieri ci fu un skyrockets ok di doge coin legato al tweet di Elon però attenzione perché se Elon torna a ritwittare secondo me potrebbe innescare i movimenti rialzisti non solo su doge non solo su shiba ma su tutti i meme token e potrebbe tornare una vera e propria moda ok quella di meme token in più in aggiunta che cosa vedo sulla bitcoin dominance attenzione perché la bitcoin dominance ha rotto ok però sostanzialmente è debole continua a essere debole ora quello che io mi chiedo possiamo ritestare i 39,74 e andare giù? al momento la vedo improbabile però è possibile ok è possibile ora l'innescarsi in questo momento bitcoin altcoin season io spero di no ok vi dico la verità spero di no perché signerebbe la fine quello che mi piacerebbe vedere a questo punto è bitcoin ok che torna su sostanzialmente e che si porta dietro tutte le altcoin quindi andiamo a rompere i 53,54 mila e magari ci portiamo dietro le altcoin comprese anche i meme token questo è un po' quello che mi auspico vi ho detto più volte come secondo me sostanzialmente le altcoin non riusciranno a tenere il passo di bitcoin però in questo momento sembra che le altcoin ok stiano regnando per cui attenzione perché potrebbe innescarsi ma lì lateralizziamo ok sulla bitcoin domina è un po' difficile però magari altcoin potrebbero seguire bitcoin allo stesso passo naturalmente ci saranno altcoin che performeranno meglio e altcoin che performeranno peggio ora che cosa ho notato su Shiba Inu Binance detiene sempre il 4.33% però ho visto l'insediarsi innanzitutto di queste due balene che sono andate ad accumulare ma soprattutto anche Crypto.com anche se di poco ok ha aggiunto una piccola porzione di token perché eravamo a 2,49 e ora siamo a 2,51 quindi ne ho idea qual è è questa sostanzialmente sono arrivati quelli di Squid Game quindi cerchiamo di buttare fuori la gente facciamo notare questa notizia che potrebbe essere negativa portiamo il pessimismo ok non avete buttato fuori questi ma li facciamoli attualizzare un po' il prezzo così la gente sa noi ok non va a prendere Shiba intanto noi exchange noi balene ok andiamo a accumulare quindi potenzialmente naturalmente non sono nei consigli finanziari nei consigli trading però la mia idea è che Shiba ok tornerà vi ricordo che io non lo uso tanto Instagram però se vi va seguitemi anche su Instagram samubit e seguite anche gli amici ok di Shiba Italia sostanzialmente Italia Shib i quali diciamo stretta una collaborazione ok reciproca per alimentare lo shibismo come vediamo qui quindi vi ricordo di di suggerire il like di iscrivervi al canale e ci vediamo presto attualmente vi ricordo anche i servizi che offro io se volete una lezione individuale di 30 minuti il costo è di 25 euro e in più potete abbonarvi sia al gruppo Elite se volete con un costo di 50 euro e al gruppo Premium al costo di 24 euro per cui vi ricordo di suggerire il botone di like di iscrivervi al canale e ci vediamo presto a presto